Mercoledì della terza settimana di avvento, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Giovanni, chiamati due dei suoi discepoli, li mandò a dire al Signore, — Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro? Venuti da lui, quegli uomini dissero, — Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti, — Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo aspettare un altro? In quello stesso momento, Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi, e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta. — Andate, e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquissano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco Quando pensiamo ai grandi personaggi della Bibbia come Mosè, Davide, Elia, Giovanni Battista e molti altri, rischiamo sempre di avere di loro una visione idealistica. In questo tipo di prospettiva, questi personaggi sono svuotati della componente più scandalosa della loro umanità, che sono i peccati e le crisi. Eppure, la loro grandezza sta proprio nel modo con cui hanno saputo vivere la propria miseria. Nel Vangelo di oggi è raccontata la crisi di Giovanni Battista, la sua notte oscura. Giovanni il Battista ci ha mandati da te per domandarti, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Vivere un'intera vita in relazione al Messia, e poi arrivare alla fine, nei propri giorni, con il dubbio di aver sbagliato tutto. Gesù non si scandalizza di questa crisi. In quello stesso momento, Gesù guarì molti da malattie, da infermità, da spiriti cattivi, e donò la vista a molti ciechi. Poi diede loro questa risposta. Andate, e riferite a Giovanni ciò che avete visto e udito. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciata la buona notizia. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Non esiste nessun argomento convincente per poter affrontare la crisi di Giovanni se non l'evidenza dei fatti. Gesù non è un venditore di parole che con una melliflua retorica cerca di portare la gente dietro di sé. Egli è convinto che l'unico argomento convincente nella vita di una persona siano i fatti. Essere sui scepoli non significa essere immuni dalle crisi, ma significa preferire sempre i fatti a mille ragionamenti che, certe volte, ci imprigionano nelle nostre paure e dubbi. Grazie. Grazie.